Comandante, prima di tutto voglio congratularmi per questa importantissima vittoria. L'impero del sollevante finalmente si è unito alla famiglia delle gloriose repubbliche socialiste sovietiche. Sebbene culturalmente sia arretrato e superstizioso, a livello tecnologico è piuttosto avanzato. Il dottor Zelinsky sta studiando i loro segreti e sono certo che ha scoperto qualcosa di interessante. Dottor Zelinsky! Dottor Zelinsky! Ma dov'è finito? Non importa, abbiamo altro da fare. È tempo, caro compagno, di sferrare il colpo finale alla causa alleata. Stai per incontrare il loro comandante supremo all'isola di Pasqua. Voi due firmerete un trattato che prevede la fine di tutti i conflitti armati. Infatti, io li ho convinti che la nostra nazione è ormai stanca della guerra e che la popolazione vuole solo la pace. Firmeremo questo trattato, ci concilieremo come fratelli e poi noi li schiacceremo! Sì, generale, è una trappola. E tu, amico mio, sei la mia esca. Abbiamo spaventato a morte gli alleati e adesso il loro generale vuole discutere la pace. Si sono mostrati deboli e dobbiamo approfittarne. Incontra i loro leader sull'isola di Pasqua e fa credere loro che siamo sinceri. E quando avranno abbassato le armi e levato i calici, sarà allora che noi li colpiremo. Gli alleati sono in arrivo da sud-est. Preparati a negoziare un trattato. Il tuo scopo comunque è distruggerli, quindi devi colpire per primo. Ecco quello che devi fare. Prepara un assalto alle forze alleate che incontreranno il premier. Non attaccare prima del segnale. Resta in attesa di nuovi ordini del premier. Buona fortuna per la battaglia. Benvenuto nell'isola di Pasqua. Gli alleati si avvicinano. Sono comandante che cadano presto in trappola. Nuovo obiettivo. Costruzione completata. Nuove opzioni di costruzione. Costruzione. Costruzione completata. Nuove opzioni di costruzione. Pronti alla raccolta. Costruzione completata. Costruzione. Costruzione completata. Nuove opzioni di costruzione. Costruzione. Annullato. Costruzione. Addestramento. Compagno, gli alleati si affideranno alla loro flotta per difendersi. Ci penso io a loro e terrò d'occhio la costa. L'entità dell'esercito nemico è ignota. Osserva con attenzione le forze alleate mentre si avvicina. L'emissario arriverà via mare. Tieniti pronto a colpire dal cielo o dall'acqua. Costruzione. Costruzione completata. Costruzione. 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 Costruzione completata. Nuova opzione di costruzione. Costruzione. In attesa. Annullato. Costruzione. Costruzione completata. Costruzione. Costruzione completata. Costruzione. L'energia. Addestramento. Black Trooper, ecco. Di che si tratta? Costruzione. Black Trooper, eccomi. Black Trooper, eccomi. Bene, che c'è l'attività? Di me vuole un po'? Black Trooper, eccomi. Black Trooper, eccomi. Sono innocente, giuro. Addestramento. Recluta pronta! Recluta pronta! Qui recluta! La flotta dell'emissario degli alleati arriverà presto. Organizza una forza adeguata. Per la madre russa! Recluta pronta! C'è la televisione lì? Recluta pronta! È l'ora. Ecco l'assunto. Addestramento. Black Trooper, eccomi. Non bloccate la porta. Non sono sufficienti. Black Trooper, eccomi. Chi ne vuole un po'? Distribuiscono cibo. Black Trooper, eccomi. Fondi insufficenti. Agula Sub pronto a immergersi. Satellite magnetico pronto. Resta un minuto. Fondi insufficenti. Amo questo tipo di missioni, ma mi chiedo, noi siamo il formaggio o la trappola? Fondi insufficenti. Agula Sub pronto a immergersi. Fondi insufficenti. Avanti. Fondi insufficenti. Restano dieci secondi. Restano dieci secondi. Agula Sub pronto a immergersi. Cosa? Cosa? Che c'è? L'emissario è arrivato. Ci stiamo assicurando che sia a bordo prima di ordinare l'attacco. Fondi insufficenti. Resta in attesa. Fondi insufficenti. I sessori funzionano. Agula Sub pronto a immergersi. Fondi insufficenti. Avanti. In attesa. Annullato. Costruzione. Buon pomeriggio, amico mio. Sei qui per accompagnarci all'incontro con il Premier? Emo di no, amico mio. Compagni, all'attacco! Ma che? Ci hanno traditi! Sfritti il fuoco! Accelto utilizzato. Colpisci gli alleati adesso. Distruggi l'emissario e tutte le sue forze. Cosa? Che c'è? Cosa? 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 ени Mayday, Mayday. Dreadnought e Churma pronti. Queste acque... Sono ancora lì fuori. Sì, stiamo andando là. Addosso, addosso. Avanti. In profondità. Pronta a tutto. Allora, branchiamoli. Inseguiamoli. Vuotati tutti nel lancio. Unità nemiche individuate. Sì, stavo andando là. Quando vuoi. Ora camminerò. Vinceremo. Ottengo sempre ciò che voglio. Versaglio pronto. Costruzione. Provo pena per i nemici. Un altro nemico del popolo. Tanti bersagli in poco tempo. Pronta a tutto. Muoviamoci. Non credo che tu ce la possa fare questa volta. Notte e Churma pronti. Avanti. Sono pronto. Cosa fa a casa qui? Diamo da mangiare ai vermi. Siamo arrivati in lingua. Avanti. Qui Natascia. Squadrone Badger agli ordini. Se lei non potesse vederci. Costruzione. Compagni marinari. Queste acque sono nostre. Pronta a tutto. Bersaglio pronto. Alleato sotto attacco. Alleato sotto attacco. Salvate le patate. Sì, avviare l'obiettivo. Ce ne sono ancora. Costruzione completata. Pronti per un'incursione. L'area è nostra. Costruzione. Dimmi dove sono. Per fatto. Non hanno avuto scampo. Obiettivo raggiunto. Compagni marinai. Non hanno avuto scampo.